113 paia di scarpe rosse come i femminicidi commessi nel 2012, un dato in aumento, ahimè, alla luce dei recenti fatti di cronaca. Il rosso, dunque, diventa il segno della violenza atroce verso l'altra metà del cielo e sarà il colore con il quale le scarpe raccolte nelle sedi della CGL del Valdarno e non solo, saranno dipinte venerdì 24 maggio in Piazza Cavoura a San Giovanni, in vista di uno specifico evento in programma durante la prossima Notte Bianca del 22 giugno. L'iniziativa sarà il 24 maggio, nel frattempo ci saranno questi punti di raccolta dove vi chiediamo di portarci delle scarpe da donna di qualsiasi tipo, per qualsiasi età, che poi verranno colorate, dipinte del rosso che è il colore di tutta la manifestazione. Per noi violenza è anche la strumentalizzazione del corpo femminile a fini commerciali, la discriminazione delle donne in ambiente lavorativo e retributivo e alla fine la violenza, quella classica che è fisica e che purtroppo spesso conduce alla morte. L'iniziativa è stata presentata all'istituto magistrale Giovanni da San Giovanni dove un gruppo di studenti ha già creato l'installazione di forte impatto lo scorso 12 aprile. Colorare per sensibilizzare. Sì, stiamo cercando di dare una mano a Lucia e a Anna Di Maggio che hanno ideato il progetto a diffondere questo perché portandolo qui a scuola ci siamo resi conto dell'importanza dell'iniziativa e quindi abbiamo continuato a lavorare insieme a Lucia per ulteriormente diffondere l'idea e quindi la cultura su questo tema. Un invito alla massima collaborazione per farsi custodi delle scarpe antiviolenze è venuto dall'amministrazione comunale san Giovannese. Sono stati creati una serie di punti di raccolta, le 16 GL ma anche la Proloco di San Giovanni, il Museo Mine di Castelnuovo che ieri ci ha comunicato appunto la sua disponibilità, la sezione SociCop all'interno del supermercato di San Giovanni e quindi punti di raccolta. Io mi auguro che questi scatoloni davvero siano strarifanti di scarpe per il significato che questo ha e perché poi il 24 maggio ci ritroviamo in Piazza Cavour. Mi auguro con tante persone a difingere queste scarpe e a cominciare a creare questo albo delle storie.